Gli assili nido di Alcamo fanno parlare ancora. I Rodari e il Salgari hanno riaperto i battenti lo scorso primo ottobre, ma non per tutti. Stando al racconto di alcune mamme imbestialite, i bambini di nuova iscrizione, inizialmente approvati secondo verbale ufficiale del comune di Alcamo uscito lo scorso mese di marzo, sono invece rimasti fuori dalle aule. Lo spazio infatti all'interno dei due nidi sarebbe insufficiente a garantire il distanziamento minimo e per questo motivo sarebbe stata disposta la sola accoglienza dei bambini continuativi. Il problema più grave è che le mamme dei nuovi iscritti non sarebbero state avvisate in alcun modo di questa nuova decisione e neppure a tempo debito quando avrebbero potuto provvedere a cercare altrove. Adesso invece, con gli asili privati già al completo e il lavoro che costringe le neomamme a lasciare i figli in un posto sicuro, il disagio è enorme. Ad informarle della nuova disposizione sarebbe stato ufficiosamente qualche mamma di bambini continuativi e qualche coordinatrice pochi giorni prima dell'inizio della scuola. Ma forti del verbale che avevano in loro possesso e che sanciva per iscritto l'ingresso a scuola dei loro figli, neo iscritti, hanno ritenuto che se le voci di corridoio fossero vere avrebbero dovuto essere confermate da una qualche forma di comunicazione ufficiale e da chi di competenza. Comunicazione che invece fino ad ora non è mai arrivata. Le mamme in difficoltà, secondo le segnalazioni, sarebbero al momento una decina, ma non sono organizzate in modo del tutto compatto, quindi potrebbero essere di più. Hanno esposto la loro polemica pubblicamente tramite i canali istituzionali e via PEC, ma non hanno ricevuto ancora risposta. In modo congiunto stanno adesso valutando, dia dire, le vie legali contro il comune.